Sempre a caccia di un centrocampista e di un attaccante, il club rossonero non ha ancora trovato il nome giusto per l'affondo. Per ora pensa a Giugno Apiontech, per il quale servono 60 milioni. Si entra nella fase calda per la discussione del rinnovo del contratto di Icardi. Marotta alzerà la proposta fino a 7 milioni all'anno, bonus compresi a fronte della richiesta di 8 milioni da parte del giocatore. L'accordo sarebbe fino al 2023. Lozano, esterno del PSV Eindhoven, interessa da tempo al Napoli. Costo dell'operazione 35 milioni, difficile prelevarlo ora, più probabile a Giugno. Possibile l'inserimento di due contropartite tecniche come UNES e UNAS. Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Occhi puntati come sempre in questo periodo sul calciomercato. Partiremo parlando del Milan. Saluto subito intanto qui accanto a me Lorenzo Di Benedetto. Buonasera. Ciao Lorenzo e buonasera a tutti. E un saluto, una buonasera anche a Raimondo De Magistris. Ciao Lorenzo, buonasera. Dunque il Milan in primo piano. Il Milan che come dicevamo nei giorni scorsi per quel che riguarda il mercato si è un po' incartato. Non riesce il club rossonero a trovare il nome giusto, il rinforzo giusto da dare a Gattuso. A parte Pachetà è ancora la ricerca del centrocampista e dell'attaccante che possa far fare un salto di qualità a questa squadra. Sì, disamina corretta la tua. Anche perché da giorni navighiamo a vista sul mercato del Milan. Sappiamo che senza il primo obiettivo per il centrocampo. Ma onestamente ad oggi non è che ci siano grosse possibilità di mettere le mani su questo giocatore che è fondamentale per De Zerbi a Sassuolo. E che quindi la dirigenza neroverde vuole vendere solo se arriva ad avere un'offerta importante, interessante, superiore a 25 milioni di euro. Per quel poco che filtra da Milanello, quindi da Leonardo e Maldini, il Milan lo vuole in prestito con diritto di riscatto. Quindi siamo molto lontani dalla richiesta del Sassuolo. In attacco vediamo obiettivi sfumare uno dopo l'altro. Penso a Luis Muriel che fu a un passo dal Milan, ma la Fiorentina è stata brava a chiudere in fretta questa trattativa. Penso a Manolo Gabbiadini che è abbastanza distante in questo momento dal Milan, anche se sappiamo che lascerà il Southampton. Penso a Ferreira Carrasco, alla belga classe 93, che gioca al Dalian in Cina in questo momento, che vuole rientrare in Europa, ma è molto più vicino alla Premier che alla Serie A. Insomma, il Milan ha questi due obiettivi, ma ad oggi non sappiamo se davvero riuscirà a prendere un regista di centrocampo. E' un esterno offensivo, ovviamente di livello, per il Milan entro il 31 gennaio. In effetti, per quel che riguarda l'attacco, sono stati tanti i nomi che sono stati passati in rassegna da parte del Milan. Da Ibrahimovic in poi, ricordava Ramon De Magistris, Muriel, Gabbiadini. Adesso Ferreira Carrasco, sul quale però c'è il nodo ingaggio da risolvere. Sì, è un nodo molto pesante per il Milan, perché attualmente in Cina percepisce 10 milioni di euro a stagione. E chiaramente il Milan non si può permettere un ingaggio del genere per un giocatore che comunque, sì, arriverebbe in Italia, però dovrebbe conoscere la Serie A, dovrebbe riambientarsi con il calcio europeo, eccetera. E comunque, a prescindere da tutto questo, se pensiamo che Higuain, che è il più pagato del Milan, ci arriva stento a questi 10 milioni di euro, il Milan non può certo darli a Carrasco. Dovrebbe essere lui il primo a fare un passo indietro per tornare in Europa, però bisogna registrare anche le sirene inglesi per Carrasco, il Manchester United e l'Arsenal. E sappiamo quanto i club inglesi abbiano una possibilità economica ben maggiore rispetto a tutti i club italiani e chiaramente in questo caso stiamo parlando anche del Milan. Il problema del Milan è rappresentato dalla UEFA, dal Fair Play finanziario. Entro tre anni il Milan deve rientrare di 126 milioni di euro di rosso e quindi, per forza di cose, non si può permettere di fare investimenti troppo importanti. Paquetà è arrivato, ha pagato 35 milioni di euro, ma è arrivato prima della sentenza della UEFA e quindi questo ci fa capire come il Milan debba muoversi con prestiti, con diritto di riscatto o cose simili. Quindi è un mercato molto molto difficile per il Milan, certo è che servono due acquisti al Milan, un centrocampista e un attaccante e Leonardo e Maldini dovranno, per forza di cose, inventarsi qualcosa entro il prossimo 31 gennaio. Sentiamo adesso anche Mario Sconcerti sulla situazione del Milan. Mario Sconcerti è intervenuto da RMC Sport. La gerarchia parte dal maggior azionista. L'input di una squadra, la costruzione di una squadra a qualunque livello, di squadra, di società, di mercato, parte dagli azionisti, non dai tesserati. Maldini e Leonardo sono dei tesserati. Gazzidis è un tesserato. Sono a contratto. Sono partite IVA, tra virgolette, come si dice a volte, come sento dire per il Presidente del Consiglio, Conte. Chi conta davvero sono Singer padre, Singer figlio, quindi Elliot e in terza battuta l'amministratore delegato che ha un contratto a termine, che sarà rinnovabile ma come tutti ha un contratto a termine. Il punto è di capire dov'è davvero il Milan, che vita ha e come spingerlo. Leonardo e Maldini sono sotto giudizio. Non sono il Milan, sono degli operatori. A parte Maldini sarà sempre il Milan, ma sotto altri aspetti. Noi non possiamo confondere Andrea Agnelli, Zang, cioè non possiamo confondere Zang con Marotta. Diciamo così che questo è più chiaro. Il Presidente Zang, chi decide, chi caccia i soldi, chi si alza male e prende delle... È Zang, è Andrea Agnelli, che infatti improvvisamente licenzia Marotta. Guarda caso, tutto torna. Le responsabilità di Leonardo e Maldini quali sono, anche alla luce di un mercato estivo che non ha dato grandi risultati? Sì, è vero, non ha dato grandi risultati, ma c'è da dire che Leonardo e Maldini sono entrati in corsa in estate. A luglio, ricorderai, fu un'estate piuttosto traballata. Iniziarono nel mercato Fassone e Mirabelli, poi arrivarono di fatto a meno di un mese alla chiusura del calciomercato. Leonardo e Maldini hanno provato a fare il possibile. Hanno comunque messo a segno un colpo importante come Gonzalo Higuain, che non ha reso perché la squadra non rende, ma non credo che il problema del Milan sia Higuain. Secondo me sono responsabilità molto limitate. Quelle di Leonardo e Maldini saranno entrambi da giudicare dalla prossima estate. Questa è una sessione di calciomercato difficile, transitoria, in cui evidentemente un giudizio sui due dirigenti del Milan ci sarà. Perché se riescono a prendere Sensi e Carrasco è un conto, se riescono a prendere due alternative non all'altezza è un altro. Però, secondo me, verranno valutati soprattutto per quanto faranno la prossima estate. Tornando all'attacco del Milan, potrebbe riaprirsi la pista Pato? Sarebbe qualcosa di clamoroso. Anche la luce del clamoroso arresto del presidente del Tianjin. Pato, che colpo sarebbe per il Milan al di là dell'effetto nostalgia che può creare? Sarebbe l'alternativa di cui parlava Raimondo poco fa. Non credo che Pato potrebbe spostare gli equilibri in casa Milan. Perché comunque sia lo abbiamo già visto sul finire della sua prima esperienza con la maglia rossonera che non era più quel giocatore che aveva impressionato tutti una volta arrivato in Italia con la maglia del Milan. Adesso io ho veramente tanti dubbi su un Pato all'altezza del Milan e capace di, di fatto, essere meglio o alla pari di Higuain o Cutrone. E quindi non credo che... La sensazione è che il meglio di sé lo abbia già dato, Pato, probabilmente. Penso proprio di sì. Purtroppo per lui... Poi comunque è un giocatore che si è infortunato parecchio. Esatto, è stato sfortunato dal punto di vista degli infortuni. Si è parlato anche tanto della gestione di Pato dal punto di vista fisico da parte del Milan. e però è un giocatore che non è stato supportato dal fisico. E quindi non credo adesso, alla soglia dei 30 anni, che possa comunque essere un giocatore all'altezza del Milan e che possa far fare il salto di qualità a questa squadra. Parliamo anche dell'Inter adesso perché si entra nella fase calda per quel che riguarda la discussione del prolungamento del contratto di Icardi. Punto d'intesa, 7 milioni di euro con un contratto fino al 2023. Potrebbe essere questa la base dell'accordo? Potrebbe arrivare a questo? Ma ci sta che non bastino, a meno che l'Inter non aggiunga dei bonus piuttosto importanti. Anche perché non meno di un paio di settimane fa Vandanara su questo tema fu piuttosto chiaro. Chiara, Icardi vale Higuain, che in questo momento è il secondo giocatore più pagato della serie, alle spalle di Cristiano Ronaldo, e Higuain ne guadagna 9 di milioni di euro netti a stagione. Quindi credo che Icardi punti a quell'ingaggio ed è inutile girarci intorno. È vero, Icardi è il capitano dell'Inter, il simbolo, però è il coltello dalla parte del manico perché in estate si attiverà una clausola da 110 milioni di euro che è evidentemente una clausola molto allettante. Che l'Inter vorrebbe togliere. Che l'Inter vorrebbe togliere, però deve rinnovare il contratto. Se non glielo rinnova entro l'estate, chiaramente questa clausola sarà attiva e a quel punto credo che Real Madrid possa entrare davvero prepotentemente in corsa. Il Real, ricordiamolo, quest'anno crisi offensiva senza pari. Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, solo 26 gol realizzati. Finora in 18 giornate il Barcelloni ha fatti 50. Il miglior marcatore è Benzema con 7 gol. Insomma, è una squadra a cui mancano i grandi attaccanti. Icardi è uno di questi e quindi se l'Inter non riuscirà a rinnovare il contratto di Icardi in estate il Real sarà più di una possibilità. Sulla situazione di Icardi adesso sentiamo anche il parere di una grande ex interista come Bruno Volchi. Io farei un discorso allargato in generale. Una volta il calcio, che parte era tutto molto diverso, ma i calciatori, anche quando giocavo io, avevamo un contratto di un anno. Ogni anno ti presentavi per il ritiro precampionato e dovevi ridiscutere. La discussione avveniva in base al rendimento che avevi avuto l'anno prima. Se tu avevi fatto una stagione buona, avevi qualche arma in più da giocare. Altrimenti se è riandato male, la società ti dice a quest'anno guadagni la metà. Dopo, con tutto lo sconvolgimento, legge Bosman, quelli che dicono per i calciatori è diventata, a mio avviso, una cuccagna. Adesso un calciatore fa un contratto di due, tre, quattro, a volte cinque anni. A quel punto lì può fare quel che vuole. Può fare quel che vuole nel senso che se ha voglia di giocare, gioca. Se ha voglia di allenarsi, si allena. Se no, per cinque anni deve essere pagato. Con il risvolto di questa pagina, che se per caso, dopo aver firmato il contratto, per due, tre mesi gioca bene, immediatamente chiede il ritocco, il prolungamento, il rinnovo del contratto. Per me queste sono cose che mi meraviglio che le società possano accettare. Io dico, un giocatore firma un contratto, il contratto va rispettato. Quando sei in prossimità della scadenza, eventualmente ne riparliamo. Quindi questa cherela all'Inter, che ogni sei mesi salta fuori, che bisogna riparlare del contratto, sinceramente io non l'accetto. In ogni caso, se non do lei, Icardi rimarrà all'Inter? Io mi auguro di sì, perché Icardi è un grande giocatore. Io l'ho sempre sostenuto contro quelli che dicevano che Icardi non difende, Icardi non partecipa. Io dico Icardi deve fare i gol. Allora qui il discorso è sempre lo stesso. Se un centravanti mi segna dieci gol all'anno, allora dico, allora tu devi correre, devi contrastare, devi difendere. Se me ne segna trenta, gli dico non difendere, non contrastare, resta là davanti e fammi trenta gol. Ramondo, d'accordo con proprio il chi? Assolutamente. Ha ragionissimo, Icardi è un grande centravanti. Da questo punto di vista non si discute. Poi, tra l'altro, quest'anno, secondo me, sta aiutando anche molto di più la squadra quando non riesce a segnare. Quindi è un centravanti in crescita costante. Da questo punto di vista è un giocatore che non si discute. Inter che ha messo le mani anche su Godin con proposta per quel che riguarda l'accordo a 6 milioni all'anno, un biennale con opzione per il terzo anno. C'era stato anche lo United che si era inserito, ma aveva offerto una cifra assolutamente inferiore. Sì, ecco, proprio vorrei partire da questo per fare anche l'ultima postilla su Icardi. Allora, dare 6 milioni di euro a Godin e fare le pulci, tra virgolette, perché comunque sia, stiamo parlando di tanti soldi, ma a una richiesta di Icardi di 9 milioni, mi sembra veramente una cosa incredibile. Anche perché, torniamo a dire, c'è la clausola da togliere dal contratto di Mauri Icardi. Quindi non capisco tanto queste operazioni da parte dell'Inter che comunque va a prendere un ultra trentenne per dargli 6 milioni di euro e poi si rischia di perdere o di andare allo scontro con Mauro Icardi per queste cifre. Detto questo, Godin super acquisto per l'Inter che porterebbe esperienza al reparto. è un giocatore che ha fatto la storia, tra virgolette, dell'Atletico Madrid, ha segnato anche in finale di Champions League contro il Real, ha portato anche l'Uruguay in alto e quindi è un giocatore che ha tantissime esperienze e farebbe tantissimo comodo all'Inter. Un acquisto che non so se poi vedrebbe anche l'addio di Skriniar, perché comunque sia, sarebbero tante poi le pedine. La domanda che ci dobbiamo porre, il prossimo anno, quale sarà la coppia centrale? De Vrij-Godin oppure De Vrij-Skriniar con Godin magari come rincalzo? No, il punto è esattamente questo. Se Godin arriva per sostituire Joao Miranda è chiaramente una crescita quella dell'Inter. Se Godin arriva per sostituire Milan-Skriniar è un'operazione che lascia il tempo che trova. Nel senso che Skriniar e De Vrij in questo momento sono una delle migliori coppie di centrali di difesa. L'Inter ha due punti di forza in questa stagione, sono Mauro Icardi, l'abbiamo detto, è la coppia di difensori centrali, su cui si deve per forza di cose puntare anche per il futuro. Quindi se fai un'operazione così importante per un ultra trentenne la fai per Modric, magari perché a centrocampo questa squadra ha dei problemi evidenti. Nonostante Brozovic sia un buon centrocampista, però se cerchi top player li vai a prendere in quei reparti in cui sei più carente. L'Inter è carente in mezzo al campo da questo punto di vista, non ha il centrocampo della Juventus, mentre sì, Skriniar e De Vrij sono paragonabili a Bonucci Chiellini. Discorso diverso se Godin arriva per fare il terzo centrale di difesa. Allora è un'operazione che ha un senso, però la cronaca di calciomercato racconta di difficoltà per il rinnovo di Skriniar. Quindi ci sta che l'Inter stia pensando anche a un Godin che in prospettiva possa sostituire proprio Skriniar e fare di fatto il titolare dell'Inter insieme a De Vrij. Spostiamoci adesso sul Napoli e in particolare ci concentriamo su uno dei grandi obiettivi dei partenopei, lo zano messicano del PSV Eindhoven, esterno d'attacco che potrebbe arrivare se non a gennaio, molto più probabilmente a giugno, quando però ci dovrà lavorare per quel che riguarda l'accordo con il PSV Eindhoven che chiede in questo momento 35 milioni di euro. Il Napoli potrebbe inserire nella trattativa due contropartite tecniche, c'è da convincere il PSV Eindhoven, Raimondo e soprattutto c'è da battere anche la concorrenza perché dall'estero sono pronti a piombare su questo calciatore. Tra l'altro possiamo vedere anche la scheda che abbiamo realizzato sullo zano. Sì, c'è da battere una concorrenza molto agguerrita perché a dicembre si è fatta avanti anche l'Inter, il Milan, ma soprattutto il Chelsea si è fatta avanti. In realtà adesso i blues si sono un po' assestati perché nel frattempo hanno preso Pulisic dal Borussia Dortmund in vista della prossima stagione. Il ruolo in campo è più o meno quello. Poi proprio su tutto mercato web il 2 gennaio abbiamo scritto di un Napoli molto forte sullo zano. Non tanto per gennaio, o meglio il Napoli lo prenderebbe anche a gennaio. Però il PSV Eindhoven da questo punto di vista è stato categorico, il giocatore non si muove e adesso il Raio, il suo procuratore, proverà però a spostarlo in estate. In questo momento il Napoli è in vantaggio rispetto alle altre pretendenti. è un giocatore che piace moltissimo al Napoli perché per intenderci è un'operazione alla Mertens, alla Milik, cioè questi giocatori che hanno fatto molto bene nelle redivise e Lozano è il trascinatore del PSV Eindhoven insieme a De Jong, della capolista in Olanda e quindi il Napoli pensa che possa essere in prospettiva un giocatore molto importante per il Napoli. Ancelotti lo conosce bene perché in estate l'ha seguito in Russia, lui che era commentatore tv per una televisione messicana e lui è stato il trascinatore di quel Messico quindi è uno dei principali sponsor di Lozano. Insomma c'è tutto per vederlo in Italia in estate, anche il prezzo perché 35 milioni di euro, 40, sono un prezzo alto ma non altissimo per un giocatore delle sue qualità. Soprannome di questo giocatore avete visto nella scheda El Chaki, sapete perché? No, lo lascio dire a te. Perché si richiama al film horror, al titolo del film horror e in particolare si racconta che Lozano quando giocava in Messico si nascondesse sotto il letto dei suoi compagni per spaventarli e quindi da qui è nato questo soprannome che si rifà al titolo del film horror El Chaki. Bene, adesso dopo questa notizia mi sento più completo. Per avere un quadro a 360 gradi su Lozano, naturalmente non c'è solo Lozano nel mirino del Napoli, un Napoli che è sempre più sulle tracce di come anche questo potrebbe essere un giocatore che a breve potrebbe vestire la vada del Napoli, probabilmente non a gennaio, però anche lui a giugno potrebbe concretizzarsi questo affare con il Genoa. Sì, ha parlato proprio oggi il direttore sportivo del Genoa Giorgio Perinetti che ha confermato la trattativa in atto tra il Genoa e il Napoli e ha di fatto detto che siamo ai dettagli, questo non vuol dire che la fumata bianca è vicinissima, però siamo a trattare i bonus, tutti i dettagli che mancano per la firma del contratto, però io credo che a meno di clamorose cose che potrebbero succedere, qua a me sarà un prossimo giocatore del Napoli. Anche in questo caso si parla di giugno perché comunque il Napoli è abbastanza coperto in avanti in questa stagione. Bisogna capire poi chi a giugno resterà davvero a vestire la maglia del Napoli perché comunque i classi 87, ovvero i vari Cagliecon e Mertens potrebbero prendere altre strade, potrebbero essere ceduti e quindi è qui che il Napoli dovrà rinforzare il suo reparto avanzato. Qual è invece, cambiando settore, parlando sempre del Napoli, la reale portata del problema Isai, alla luce delle parole del suo procuratore. Isai chiede di essere ceduto, non è più considerato granché d'Ancelotti, però il Napoli può permettersi di lasciarlo partire così a cuor leggero? Sì, può permettersi di lasciarlo partire, non lo farà a gennaio, perché Ancelotti da questo punto di vista è stato chiaro, non partono titolari, non arrivano titolari, però a giugno sicuramente sì ha una valutazione importante, 35-40 milioni di euro, ma soprattutto in virtù di come si è evoluta tatticamente questa squadra che credo che il Napoli possa fare a meno di Isai. Perfetto, siamo arrivati così alla conclusione del nostro TMV News, grazie a Ramondo De Maggiris e naturalmente anche a Lorenzo Benedetto, grazie a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento di serata. Grazie a tutti!